E senti, adesso non posso parlare, ti chiamo io stasera, eh? Ciao. Problemi sul lavoro? Allora, non ti preoccupare. Otimismo, Silvia, otimismo! Che schifo! Porca trota! Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Mi sono spacciato per disabile. E beh, non voglio disturbarla ulteriormente. Vai, arrivederci. Licenziato, trasferito. Al sud, al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Ci resterai due anni. Due anni? Ma perché mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caso. Prima la posta la portavano i cammini. Poi il direttore era in un bad wind. Che favore, ripiglia per il culo. Mi hanno mandato, apposta per farvi lavorare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie. No, è l'odore di una fatalina che mia mamma. La mette ovunque. Ma perché ci sono i topi? Eh, i topi li saranno. I nonni i topi è tanti. La vivono qui? No, si hanno affittato monologo a fianco. E tu? Quella è cioccolata, mischia dal sangue di maiale. Ma vederli così sembrano normali. No, veda! In realtà sono scuri, piccoli, tracagnoti. Buongiorno a tutti. Se gli fai vedere che le palle scappano. Non mi costringa a metterle una nota a discipulare. Potrò mai ne va a uso. Non farei temerare come il tuo solito, eh. Direttore! Non capitate paura, direttore. Dobbiamo fare una sorpresa. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Per cominciare può andare bene, no? È meraviglioso. Quant'è? Noi l'abbiamo fatto per amicizia. Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno. Poi ci conosceremo. Che si fa stasera? Abbiamo organizzato niente? Che ne hai tu? Venerdì. Non tornate a casa. Che ho detto quando un forestiero viene al sud e piange due volte. Quando arriva è quando parte. Io adoro il sud! Io domani vengo lì da te. No. Non puoi venire da me. È pericolosissimo. Arrivederci!